Gattini battono rifugiati 40 ad 1. La guerra civile in Siria ha come effetto secondario ma certamente non meno grave il dramma di centinaia di migliaia di profughi in fuga dal paese. Tutti abbiamo negli occhi le immagini che le televisioni ogni tanto ci trasmettono. Il dramma, quello dei profughi che interessa anche recentemente, è interessato per esempio l'Egitto con la famosa primavera che si sta dimostrando un inverno invece che una uscita da quelle che erano tutte le problematiche sia economiche che politiche. Il dramma dei profughi però interessa l'Africa e lo interessa da decenni per alcuni paesi, pensiamo all'Uganda, al Ruanda, al Congo soprattutto, al Sudan, alla Somalia, al Niger, il nostro responsabile per esempio dell'Uganda è stato la settimana scorsa proprio a visitare i campi profughi in Somalia. Pensiamo all'Asia con l'Afghanistan, quindi quello dei profughi è un problema veramente molto grande e chi ha avuto modo di visitare questi campi profughi o ha avuto modo di incontrare quelle persone che scappano da questi paesi e poi arrivano qui da noi per ritrovarsi poi a vivere in qualche centro di accoglienza, testimonia che i racconti che questi fanno sono veramente terribili e sono racconti di violenza, sono racconti di morte anche per la strada, pensiamo a tutti quelli che perdono la vita sia nell'attraversamento del deserto sia poi nell'attraversamento del mare. La testimonianza è anche nei confronti dell'indifferenza che c'è nei confronti di queste persone. Se andiamo a vedere infatti una recente statistica che è stata fatta su quel che riguarda i network, su quel che riguarda Facebook e gli altri social network risulta che i temi più seguiti, i temi più cliccati mettono al primo posto gli animali, quindi cani, gatti, canarini ma anche gli orsi, le balene, i panda, i rinoceronti eccetera. Questi battono tutti. Al secondo posto ci sono i bambini e poi via via scendere nell'interesse l'ambiente, la povertà e la fame, l'istruzione, i disabili, i senza tetto, le donne, l'acqua. All'ultimo posto ci sono proprio loro, i profughi. Eppure per alcuni aspetti sovente loro sono gli ultimi degli ultimi. Hanno perso tutto, patria, casa, averi e si ritrovano a vivere in abitazioni di fortuna, magari per mesi, per anni sotto una tenda. Dipendono totalmente da qualcun altro e spesso sono la mercè di banditi che speculano sulla loro situazione e li riducono spesso in schiavitù. Terribile è la situazione delle donne e delle ragazze che subiscono violenza di ogni tipo e sono spesso costrette a prostituirsi per sopravvivere. Ma forse lo scarso o nullo interesse verso i profughi deriva dalla paura che questi possano mettere in pericolo il nostro benessere. Come non ricordare la legge dei rispingimenti che nel 2009 ha riportato in Libia migliaia di disperati in fuga condannandoli spesso a morte certa? Meglio dedicarsi al gattino o al cane abbandonato da loro? Non ci si può aspettare problemi ma solo gratificazioni. Meglio fare una donazione a un'associazione che si occupa della difesa dell'orso o delle balene minacciate di estinzione. Le statistiche ci dicono che almeno online l'interesse verso i gattini batte quello verso i profughi 40 a 1. E non va certo meglio se prendiamo in esame l'economia che gira attorno al mondo degli animali domestici. Secondo recenti stime la spesa che gli italiani affrontano ogni anno per garantire cibo e cure mediche eccetera ai nostri cani e gatti si aggira intorno ai 4 miliardi di euro. Enormemente di più di quanto donato per combattere la fame, la sete, la povertà che interessa un miliardo di persone che vive con meno di un euro al giorno.